Oggi vi andrò a far vedere un estratto del mio video su roblox con giulia e fare che faremo Marder mystery buona visione ciao raga La sede di zilic non sederti e io mi ci siedo e non succede niente Ma io non ce l'ho quella della sede ma neanche io ce l'ho ho usato un hack Noo You don't hear me Noo I'm an Albert's house Nooo Riperotti raga riperotti